Operazione Pandora Oltre 100 carabinieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo, nelle province di Catania e Palermo, un'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale Etneo, nei confronti di 11 soggetti tra esponenti politici, funzionari comunali ed imprenditori accusati a vario titolo di scambio elettorale politico, mafioso, estorsione aggravata, dal metodo mafioso, corruzione aggravata, istigazione alla corruzione e turbata libertà degli incanti, acquisiti nell'indagine coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania e condotta dal Nucleo Investigativo di Catania tra il 2018 e il 2021 tanto gli accordi illeciti tra alcuni amministratori del comune di tre mestieri etne o delle menti vicini alla cosca mafiosa Santa Paola Ercolano riguardanti l'elezione nel 2015 dell'attuale sindaco Santirando, quanto la successiva degenerazione affaristica dell'ente messa in atto dai funzionari infedeli mediante numerose, corruttele, per concedere permessi e assegnare lavori agli imprenditori amici. Emerso inoltre, nell'ambito di una strategia dei vertici comunali tesa a neutralizzare ogni forma di, opposizione politica, l'accordo corruttivo con lo storico consigliere d'opposizione Mario Ronsisvalle, poi transitato tra i sostenitori del rando per le amministrative del 2021, in particolare il Ronsisvalle, titolare di una farmacia a tre mestieri, anche grazie all'intervento di Luca Rosario Sanmartino, principale referente politico del primo cittadino, all'epoca dei fatti deputato regionale e attuale vicepresidente della regione, sarebbe stato avvantaggiato attraverso la riduzione del numero delle farmacie presenti nella pianta organica comunale, promettendo in cambio il sostegno elettorale, per le elezioni europee del 2019, al candidato sostenuto dal San Martino. Il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Palermo, in occasione dei festeggiamenti per la giornata del mare e della cultura marinara, ha, aperto le porte, dei dipendenti reparti agli alunni degli istituti superiori presenti sul territorio. Durante gli incontri sono stati mostrati i risultati di servizio ottenuti dalle fiamme gialle nel corso di operazioni di polizia, allo scopo di stimolare nei giovani studenti una maggiore sensibilità verso la legalità economico-finanziaria legata al mare. Gli studenti hanno avuto anche la possibilità di vedere in prima persona la sofisticata strumentazione presente a bordo degli aeromobili e delle unità navali della Guardia di Finanza, fare domande al personale operante e, in alcuni casi, assistere a dimostrazioni cinofile, sotto la supervisione del personale specializzato. L'evento si inserisce fra le manifestazioni, più articolate e su scala nazionale, che il Corpo della Guardia di Finanza sta organizzando durante tutto il 2024 per celebrare il 250esimo anniversario di fondazione. Immense pale d'altare, dipinti su tavola di scuola antonegliana raramente esposti al pubblico, codici miniati e volumi antichi ma anche busti, uniformi storiche, arredi e paramenti sacri. Sono le opere d'arte che saranno esposte dal 20 aprile al 28 luglio al Museo Diocesano di Catania nella mostra, dai monasteri e dai conventi, dedicata al patrimonio artistico proveniente da luoghi di culto dell'area etnea e confluito tra i beni dello Stato all'indomani dell'Unità d'Italia. L'inaugurazione si terrà sabato 20 aprile alle 16, mentre l'apertura al pubblico con ingresso libero è fissata dalle 17.30. In mostra i tesori di proprietà provenienti da siti catanesi del Fondo Edifici di Culto, istituito presso il Ministero dell'Interno che ha autorizzato la mostra. Un racconto che, sia pure circoscritto all'area che spazia dai comuni dell'Etna a quelli del Calatino come Caltagirone, Militello e Mineo, indaga e mette in mostra, secondo un criterio storico scientifico. Beni e opere d'arte riconducibili ai principali ordini monastici diffusi in Sicilia, Basiliani, Benedettini, Carmelitani, Domenicani, Francescani, Agostiniani, Mercedari, Paolotti e Camigliani. Dai monasteri e dai conventi, è un progetto della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania finanziato dall'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. In mostra i tesori di proprietà provenienti da siti catanesi del Fondo Edifici di Culto, istituito presso il Ministero dell'Interno che ha autorizzato la mostra. Un racconto che, sia pure circoscritto all'area che spazia dai comuni dell'Etna a quelli del Calatino come Caltagirone, Militello e Mineo, indaga e mette in mostra, secondo un criterio storico scientifico. Beni e opere d'arte riconducibili ai principali ordini monastici diffusi in Sicilia, Basiliani, Benedettini, Carmelitani, Dominicani, Francescani, Agostiniani, Mercedari, Paolotti e Camigliani, dai monasteri e dai conventi, è un progetto della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania finanziato dall'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. La mostra è organizzata dalla Soprintendenza insieme alla Prefettura di Catania e in collaborazione con l'Arcidiocesi, il Museo Diocesano e il Fondo Edifici di Culto, nel quale confluirono tutti i beni già appartenuti ai religiosi. La diga foranea di Catania tornerà a risplendere e rendere ancora più sicuro e moderno il porto. Sono stati consegnati nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale, i lavori di rifiorimento e consolidamento della struttura di difesa più importante che serve ad evitare i pericoli provenienti dalle mareggiate e garantire attività portuali, approdi e ormeggi privi di rischi. L'appalto da 75 milioni di euro, finanziato con fondi del PNC Piano Nazionale Complementare al PNRR, era stato aggiudicato ad un raggruppamento di imprese composto da Consorzio Stabile Grandi Lavori, cose di l'Ecce che hanno commissionato, già in sede di gara, la progettazione esecutiva alle società Duomi, Technital e Advanced Technologies, progetto che è stato approvato giovedì scorso.L'affidamento prevede in particolare il posizionamento di circa 5.000 massi ciclopici parallelepipedi, realizzati in calcestruzzo, collocati all'esterno del muro paraonde con l'obiettivo di ripristinare la cosiddetta «sagoma» della diga, così da evitare che le forti onde possano riversarsi all'interno del porto. La «mantellata» smorza le mareggiate in modo che quando c'è l'impatto sul muro, questo non viene danneggiato. La diga foranea risale a molti anni fa, nel tempo sono stati fatti interventi ma solo parziali e su alcuni tratti, evidenza il presidente dell'ADSP Francesco di Sarcina. Infatti, anche per questa ragione, al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini, da circa un anno siamo stati purtroppo costretti ad interdire la libera fruizione del molo, ma contestualmente avevamo avviato una messa in sicurezza e restyling notevole e senza precedenti, che restituirà alla collettività entro il 2026 un'opera completamente rinnovata secondo gli standard di sicurezza odierni e usando strumenti e tecnologie all'avanguardia. La diga sarà alzata di circa un metro e mezzo e ciò consentirà una maggiore sicurezza anche per i cittadini che potranno passeggiare a piedi e in bicicletta, potendo, così, fruire definitivamente del primo concreto passo di integrazione fra porto e città, prosegue come concordato con la ADSP la riqualificazione del porto etneo, commenta il sindaco di Catania Enrico Trantino, in un'ottica di miglioramento del rapporto coi cittadini che potranno usufruire della nuova passeggiata sulla diga foranea in piena tranquillità, anche nel periodo invernale, godendo di spazi all'aperto particolarmente suggestivi e a pochi passi dal centro storico. E questo varrà ancora di più per turisti e croceristi che troveranno un porto rinnovato, splendido, biglietto da visita della nostra città. A coordinare l'appalto sarà la direzione infrastrutture e pianificazione dell'ADSP. Con a capo l'ingegnere Riccardo Lentini. Dal 15 al 21 aprile comincerà la prima edizione della festa del gelato, organizzato da Fipe Commercio Catania. Questo evento è rivolto a tutti i bambini al di sotto di 10 anni che si potranno recare, accompagnati naturalmente da un adulto, presso un pubblico esercizio che ha aderito all'iniziativa. Il papà, lo zio, il genitore potrà comprare un gelato e il bambino avrà in omaggio il secondo gelato. Questo evento è stato fatto sicuramente per dare un sorriso ai bambini, perché sappiamo sempre bene che qualunque bambino di fronte a un gelato avrà sicuramente un grande sorriso. E sia per far conoscere questo alimento sano che molte volte viene soppiantato da gelato industriale. Quindi vogliamo ricordare alla nostra clientela di far consumare ai propri bambini un gelato artigianale che è sicuramente una merendina molto nutriente e buona da gustare. È la prima edizione a Catania, ma è la prima edizione in Sicilia che si fa per la nostra associazione. È rivolta naturalmente, come abbiamo detto, ai bambini, ma dobbiamo dare un impulso maggiore a quello che sono le nostre aziende per far capire naturalmente che dietro tutto ci sta qualità, ci sta un servizio e ci sono degli imprenditori che rivolgono il tutto a una platea che naturalmente sono i nostri clienti e i nostri futuri clienti che sono i bambini.